Volano gli stracci in Forza Italia e questa non è certo una notizia, considerando che il partito ha conosciuto negli ultimi anni scontri e diaspora interne tali da fargli perdere quasi 20 punti percentuali rispetto ai tempi d'oro. La novità è che stavolta i diktat della coordinatrice Iole Santelli, oltre ad aver avuto l'effetto di creare una spaccatura con il vice coordinatore regionale Foti, sono riusciti nel miracolo di sanare una vecchia frattura, e cioè quella tra lo stesso Foti e il presidente della provincia Raffa. I due, come si ricorderà, avevano costruito in riva allo stretto un asse di ferro in contrapposizione allo strapotere di Scopelliti e della sua corrente. Poi anche loro avevano finito con il litigare. Per il presidente Raffa, Foti aveva assunto posizioni troppo deboli nei confronti dei piani alti e aveva quindi deciso di prendere le distanze, creando un proprio movimento, Idea Calabria. La nomina dei due subcommissari Nicolò e Canizzaro da parte della Santelli ha avuto l'effetto taumaturgico di riavvicinarli. La prova si è avuta all'iniziativa che Foti ha organizzato per rilanciare l'azione di Forza Italia e che è stata boicottata dal resto del partito. Nessuno degli eletti si è presentato all'appuntamento, ubbidendo ordini di scuderia che sarebbero stati diffusi via sms nelle ore precedenti l'incontro. Neanche il capogruppo in consiglio Nicolò si è fatto vedere, nonostante risultasse tra i relatori. A sorpresa, invece, è arrivato il presidente Raffa. Non sopporto le ingiustizie, ha spiegato, mentre entrava nella sala del convegno. E quello che hanno fatto oggi è una vera ingiustizia. Il presidente della provincia ha poi spiegato di non essere mai uscito da Forza Italia, ma anzi di essere perfettamente in regola con i pagamenti delle quote e del testareamento. Riccardo Tripepi per la CNews24